Ti faccio vedere qualche video, io sono un estimatore delle vie, però. Eh, lo so, lo so, lo so. Siu ti seguo più io di tutti quelli che hanno in chat, cioè che cazzo vuoi? È vero, Ceccio, lei sa cose che neanche io so di scoprire. Cioè, Siu mi fa, ah sì, lo sai, ho fatto questo, lo so. Bello quello. No, 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 ma che cazzo me ne frega? Abbiamo i bunker, eh, Parker. Io ho anche le bolle. Siu, guarda qua. Eh, non lo so, ti avevo lasciato un mitra e è sparito, che cazzo ti devo dire? Guarda qua, bello, sto, hai qua, Ceccio, guarda dov'è? Dove? Allora, ascoltatene. Vieni, io te l'ho lasciato! Vi lascio da un bunker qui, prendeteli, io vado a taggare, vado a riscare. Sembrava che ero un coglione, ma io te l'avevo detto che... No, no, ci mancherebbe. No, però ho detto, non so che sui raffatto. Eh, sei a posto, Tena. Parker, perché non vieni a prendere lo shield? No, no, fate vai, fate farmi lo slurptrack. Ok, ok. Ehm, altri due qua, Ceccio, aspetta. Sì, sì, arrivo, io stavo farmando. Sa, per caso quando mi entrano il prezzo delle sub? Ehm, no? Mi sembra comunque da dopo l'estate. Allora. Ci bolle scudoci? Ui, ui, prendo, vengo, 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 vengo. Ti ripeto, se vuoi bunker faccia cambio, eh. No, no, eh. Mark, auguri anche a te, Patato. Senti, C, vogliamo, mentre Parker fa le sue cose, cercare di prendere altro loot? Secondo me, sì, anche se sento sparare a due dieci. Cazzo, io ho sette colpi. Sette colpi? Eh, sì. Eh, però stai calmo oggi. Eh, sette colpi... Cioè, sei veramente un cazzo di delinquente. Eh, un po', sì. Io tornerai indietro. Tanto so che c'è anche suo fratello, il 30. Sì. Eh, sì, t'ho taggato, ci dovrebbe... Ci dovrebbe essere X-Huter. Sì, ok, scusami, scusami. Eh, sono stanco. Power, Rubino... Powerone c'è sicuro, l'ho visto domenica, l'ho visto, ma... Sì, se non muore prima, sì. Sì, se non muore prima... Eh, insomma, siamo un po', siamo un po'. Tra fedeli, tra amici, tra tutto quanto. Ci sta, ci sta. Penso che non è una cosa che... Cioè... Sai, è difficile comunque organizzare una cosa del genere, anche con i creator, che comunque sono sempre pieni... Dei figli, puttana. Sì, no, no. Ma io non volevo... Perché deve essere sempre così diretto, mi scusi. Ma sì, vabbè. Eh, ma io sono fatto così, Xiu, che cazzo vuoi? Cioè, nel senso... Giusto, giusto. Perché devo avere dei giri di... No, giri di troia, non è che... Sono impegnati, sono impegnati. Sì, a fare i bocchini. Posso chiedermi un po' più di audio, che ora sta in side, che è sicuramente becco qualcuno? Ma come cazzo ti pare? Ok, ok, leggermente appena appena. Ci sono, scusatemi, sono un attimo fermato a salutare. Eh, ragazzi, vi do una bella notizia. Abbiamo sei bunker. Quella madonna di Dio. Eh, sì. Abbiamo anche però della nitro, che io vorrei che parca prendesse, sincero. Eh, ce l'ho già. Ok. Io ho sei bunker, me li tengo, sinceramente. Allora... A meno che C, non ne vuoi due. No, no. Prendi tutto. Prendi tutto. Non ti preoccupare. Nitro qui, zio, se vuoi. Eh, ma non posso portarla, c'ho sei bunker. Eh, sei bunker e tanta roba, porco zio. Sei bunker e tanta roba, sì, puoi gestire come vuoi. Zio, facciamo così. Lasciami due bunker. Mi dammi quattro bolle, sì. Aha. Vai. Che magari in mano tutti a te non vanno bene. Ma, scusami, zio. Cosa fa ciccio? Troppa cose per metà. Allora. Ok. No, perché non ha senso che io abbia sei bunker. Eh, no. Andiamo un po' da parca, va. Anche perché, sì. Anche perché ricordi che con le bolle possiamo portare giri i bunker. Eh, sì. Allora. Buonasera, ragazzi. Buonasera. Mamma mia, quanti anni che facciamo Fortnite, ragazzi. Speriamo che Fortnite decidete di ricchiapparsi un attimo, perché? È brutto, è difficile, ragazzi. Tosta, tosta. Guarda, che stanno pushando. Io ti... Ti pushano, parca? Sì, mi porto degli amici dietro di me. Dai, sei troppo gentile. Te lo giuro, troppo gentile. Parca, che caro. Mi sa che è iniziata la maratona. Ma porta qualche bel mignotone, no? Io... No, no, no. Spera benissimo. Amore mio, ciccio, che parla, eh? Se tu stessi sentendo la live. Guarda, perché so che adesso mi affaccio, muoio io e parca vive. È quello, è quello, è quello. Non so se li ha seminati. Io ho fatto una bella corsetta. Sì, no, no. Non ti hanno proprio più preso. Cioè, non eri più nei loro pensieri. Sto arrivando. Hai preso qualche tag, parca? Eh, non posso, perché mi pushano in tre. Cioè, non posso rischiare un cazzo. Allora, siamo in 81, il che non va assolutamente bene. Seguiamo parca. Mi fa troverso un cazzo di assalto buono. Ok. Allora. Parca, a me basta che chiedi e ti do, eh? Cioè, nel senso. Ah, no, no. Come non? Questo è quello. Lascia bolle? Qualcuno le può portare? No. No, ne ho già quattro, più quattro bunker. Però i medikids, se qualcuno li trova, ne prendo due, eh? Eh, c'era nella casa di prima, vabbè, non fa niente. Oh, lo so, lo so, lo so, lo so. Non li ho presi prima. Ma li ho già trovati a posto. Ok. Ok, attenzione parca a entrare qua, eh? Eh, sì. Sono questi 80 colpi medi che non mi piacciono. Io ho 157. Ricordiamoci i tag, più che altro. Eh, sì. Siamo attenti. Tanto attenti. Mi raccomando, usate i testi, Dash. Usate, usateli bene. Certo. Tranquillo, appena devo scavalcare, vedrai che subito uno uso. Ne brucia due, ne brucia. Ah, dai, dai, da quello. Ok, ho gente davanti. Ok. Non li vedo, parca. Eh, è andato verso di là. Stami seguendo? No, no. Più che altro... Non vorrei farvi il scapprofo. No, no. Davanti a noi, davanti a noi, davanti a noi! Eh, infatti l'avevo visto. Mi hanno visto. 15, 15. 20! Becchiamo, 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 becchiamo. Ok. E andassi. Sono in alto. Quelli che ti hanno sparato erano 240, quindi non ti prendi. Non ti push. Vabbè, non hai subito danno, porca. Cieli. Tu sei C? Oh, qua. Ok. Eh, ragazzi, ancora stacco. Quando finisce il torneo, raga? Questo è il terzo game, ne mancano due. Mi serve un assalto da lontano. Andiamo in Nike, andiamo in Nike. Ok. Vedete. Qualcuno ha l'assalto... No, 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 quello di prima, no. Quell'altro, quello che spara un po' più veloce. Forziere. Oh, cazzo. Ok, allora. Innanzitutto qua non si ride. No, no, guarda, io... Allora. Però lo sai, questa mossa mi piace. Lo sai? No, no, mi piace questa mossa. È bella. Lo sai chi faceva sempre così? Che co-bomba. Meno male che c'è i medikit. E qua a destra ce n'è uno. Sì. Ma tu dillo che l'hai fatto apposta per toglierlo ai nemici. Cioè, sei troppo forte. Io non so come. Che cazzo ti pensate che fai? Eh, io... Guarda, per togliere questo, tu hai fatto tutto... Io dici lo sei un genio. No, l'ho fatto apposta. No, no, è vero, io... Park, veramente, complimenti ad aver accettato... Grazie. Grazie, grazie. Che cazzo. Ci sono delle tecniche che ancora non sono state capite. No. Allora. No, 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 no. Ciccio però le ha capite. Io l'ho capite bene. Da me? Vuoi in chat? Da te? Sì. Dove, dove, dove? C'è, dove? C'è, è dietro, è dietro. Dove riesco a capire, a fin cazzo. Eh, è qui, Cristo, addio. Ti ho detto dietro, sta qua. Non so se si seguono, non vedo passi. Eh, no, però... Però non volevo che ti facessi una gangbang. No? Non vedo niente neanche col termico, siamo free. Stiamo parlando, Park, da 38 a 60, eh, come coordinate. Beh. Guarda, io l'ho visto, si stanno imbucati... Cioè, regà, l'ho visto, stava imbucato da queste parti qua. Sto continuando a cercare col termico, non vedo niente. Eh, se sarà incastrato da qualche parte. Mi affaccio, mi affaccio, Park, guarda a me, 228. Secondo me qualche cosa lo prendiamo? Sono qua, ci? Sotto, 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 Park. Sto arrivando, stai arrivando, stai arrivando. Crackato! 33! Bianco, Bianco, Bianco! È me? Sono arrivando? Eh, sono veramente messi dalla merda. Eh, sono tutti da me, ragazzi, per favore. Cazzo, dove sei, Park? Dove cazzo sei? Sì, lo vedo qua. Per favore, ragazzi, in tutti i miei ultimi. Stiamo arrivando, stiamo arrivando, Park, stiamo arrivando. Vabbè, sceliamo, sceliamo, sceliamo. Gli ho lasciati 1 HP, letteralmente. Ci sono altri che arrivano qua. Lo stavo per inculare. Lo stavo per inculare fortissimo, ragazzi. Non la scelta. Io, se vuoi, ho bibidon, cioè quello che spruzza. Non lo voglio sfregare. Mini intorno, zero proprio. Ah, i Nike, i Nike. Tutti i Nike. Io uno, se io l'ho distrutto, gli avrò fatto 180, una roba del genere. Tutti i sopra, tutti i sopra, tutti i sopra. Sì, sì. Siamo qua. Io ho messo white un altro, ok. Che merda. Va bene, però sono tag, sono tag, sono tag. Dai, va bene. Sì, però me lo dò il culo, santo Dio, perché veramente l'avevo spacchiato, Z. Sì, è spacchiato. Però oggi riusciamo a gestire diversamente le cose, eh. Settimana scorsa no. Oggi sì, invece. Eh, siamo un po' più freschi. Sì, non so. Ragazzi, c'è un solo. Che me la jump. Sta arrivando verso di noi. Guardatelo, guardatelo. Sta arrivando verso di noi. Aspetta, aspetta, sono due. 64. Eccoci, mi ha rotto il culo. 20, 20, parca, crackato. Bianco, parca. 12 white, 12 white. Ziu, occhio, che c'è un team che mi sparava forte. Sto giampando. Mi continui, Ziu, continui. Sto continuando. Occhio, Ziu, occhio, c'è arrivata una. Marta, 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 Marta. Cazzo, c'è un altro team ancora. No, calmo. 20, 40 al tipo che ti spara. Scappa, parca, scappo, finito i colpi. Non posso sparare, lo vieni. Ziu, vieni. Io ho fatto 62 a quello, parca. Bellissimo, bellissimo. Venite, ragazzi, richiliamo. Venite. Richiliamo, venite? Sì. Ok, stiamo arrivando. Dove stanno? Lo stanno arrestando. Da parca, da parca, da parca sono. L'ho arrestato. Eh sì. E allora, via. E allora, basta. E allora, basta, scusatemi. Marta, Marta, Marta. Bravo. Il mondo. Eh, perché non è... Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. 8, 12. Ah! È morto, è morto, è morto. L'avete fatto? Sì, sì, è fatto io, è fatto io. Prendiamo il day finish. Prendiamo il day finish. Bravi, bravissimi. Spaccato, cioè, totale, regà, non... Buon caro? Non massacrato. Coca-Cola, è merda, ragazzi, mentiate da me. Subito. Ok. Prendete queste due Coca-Cola, subito. Minchia, trompati nel bocchio del culo, coglioni. Minchia, non sia tossico, parca. Ma sì, secondo me, un po' di tossicume. Prendete, prendete Coca-Cola. Prendete, prendete, prendete. Prendete, prendete, prendete io, prendete io. Sì, io ho tre medikit, vai, vai. Ok. Aspetta un attimo che però faccio così. Uh, che boh, l'ho disintegrato, regà. Bello, bello. Lascio il pompa a tre colpi. Uno è scappato via, eh. L'ho visto entra dentro la safe. Occhio sopra, guys. Occhio sopra. Questi ci piccano, ci spaccano il culo. Non ci hanno visto, non ce l'hanno con noi. Non ce l'hanno con noi. No, lo so, però... Seguetemi, seguetemi, seguetemi. Ok. Avete tutto, no? Per forza, avete tutto. Venite. 62. No, basta, basta. No, lo so, lo so. Però ho preso un po' di tag. Non si sa mai, sti cazzo, tanto non ci bussano questi. Chi è che ha a vincere oltre me? Io quattro. Anch'io quattro. Mamma mia, il grizzo proprio. Io c'ho anche quattro bolle. Basta, basta che mi seguete posto. Io lo sai che me dovresti dare forse un medikit, ti dico la verità. Eh, ci ho pensato, vai. Ti dico la verità, perché tanto se poi moriamo sti cazzi. Qua, qua, qua. No, no. Magari lo ritrovi, capito? Sì, sì. Dobbiamo chillarla in questo side. Dobbiamo farci i cazzi nostri. Eh, però, però andiamo AIG, Park. Ci sta o qua qualche zona più AIG, secondo me? Devo rendere lì, però troppo rischi. Proviamo, proviamo. Troppo pericoloso lì, Park. Lo so, lo so. Eh, lo so, ma secondo me dobbiamo prendere AIG. Poi fate come cazzo vi pare. Sì, sì, sì. E là, anche lo prendiamo AIG, ciccio. Faccio dentro da me, venite. Park, stai attento che ci arriva il medaglione. Faccio dentro, veloci, veloci, veloci. Dai. Guardate, mi folla. Sinistra, 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 sinistra. Sinistra da me, sinistra da me. Venite, venite, venite. Tiro bunker? Dobbiamo. No, no, non c'era bisogno. Chill, chill, chill. Il bush è free, il bush è free. Stiamo chill qua, ok? Non dobbiamo fare un cazzo. Ma tengo sopra? No, stai, stai sotto chill. Spottiamo e basta. Devo stare sopra che ti possono trombare in un secondo. Cercate di lasciare troppo, bene, per amore di Dio. Minchia, solo 7. Medaglione non so dove, occhio, ragazzi, che questo se ci comincia... Occhio, occhio, occhio. Tira un bunker, freg un cazzo, ragazzi. Tiro sopra, tiro sopra. Faccio, faccio, fermo, passi. Vuoi che chiudo? È andato via il bue, è andato via il troione? Follatemi, follatemi di bunker. Qua, troppo. Ok, tieni, se. Allora, abbiamo 8 e più di 10... 13... 11 punti, al termine. Ti lasci perdere, Ciccio, per conti sì. Gente qua! 61! Occhio, occhio, c'è stato fermo. Sì, 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 sì. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Non c'è bisogno di taglia, fa veramente. Sì, infatti, non c'è bisogno. Non c'è bisogno. Volano 330! Si sparano da più punti adesso, attenzione. Sì, lo sparemo. Teniamo il nostro site. Fagli sparare. Hai due bolle, Ciccio? Ricordati lì sotto nella cosa. Sì, sì, ok, bene. Vogliamo andare, parca? Subito, 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 subito. Vai, vai, colonne, colonne. Vai, 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 vai. Vedete, nitro, nitro, nitro. Da me. Vai. Colonne per forza. Sopra sembra pulito, eh. Sì. Ci mettiamo con un bel bunker. Sì. Sì, con un bel bunker qua, se ciò. Se vuoi pasturarlo anch'io? No, 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 faccio io. E tu, vai, vai, che poi te lo ridò. Uno così. Chiudi, parca. Uno solo. Un bunker, polatemi, sì. Allora, sì. Non dobbiamo sprocarlo. Pieno di gente. Datemi le bolle, datemi le bolle in mano, veloci. Bolle. Tienissimo. Ok, già se ci sparano, state tranquilli, tira subito una bolla. Io ti guardo tutta colonna, eh. Ok. Io ho il termico, posso vedere benissimo, colonne. Partiamo questa roccia, veloce. Qualcuno che mi aiuta. Arrivo. Sto sparando qua tutta la ragazza, eh. Vabbè, fatto, fatto. Ruotano, ruotano. Guardali, guardali. Sì, 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 lo so. Dammo che sto vedendo. Scusaci, ok. Voglio guardare colonne che non devono spararci perché siamo completamente scoperti. Non state troppo fermi, non state troppo fermi. C, basta, basta. Madonna, raga, 1760 sopra. Vi ho fatto altri 60 a quel tipo, eh. Bomba. Sparano a sinistra, verso il 330 nord-ovest. Da nord-est no, non arriva nessuno. Parker, ti pingo queste. Cioè, nel senso. Non andremo mai a prenderci il 100. Li vedo sotto, 329. E' una sparata, e' una sparata. Scusa, scusa, ok, ok. Non ho senso. Sono lì, guarda, ragazzi, sono tutti e tre liberi. Sprayateli, sprayateli, vai. Sprayateli, per favore, salte. A posto, a posto, ho bruciato una bolla. Gli sparano da sopra, eh. Io ho 116 proiettili. Io ne ho 160, c'è, ne troppo qualcuno, tieni. Troppati un po' troppi, ma prendili. Aspetta, aspetta, tieni. Sono dentro, sì, sì, guardo. Guarda quelli che sono dentro una bolla, continuo. Io rio di me. C, 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 spara questi, c. Spara questi. Metto un altro bunker, ascoltatemi. Metto un altro bunker. Sì. Sessanta, tre. Sessanta, tre, sessanta, tre. Ok. Allora, dobbiamo mantenere la cazzo di posizione, ok? Sì, adesso sì. Niente dash, non usate dash, per l'amor di Dio. Sessanta, due. Ok. Non ho venticato troppo, mi raccomando. L'unica cosa che vi dico. In centro, in centro, colonna, in centro, colonna. Trenta. Ok. Ci sparano anche altri? Credo. Mi mandano. Guarda che non ci servono. Ci sono due team che ci sparano. Io sto combattendo contro due team, eh. Ok, va bene. Ciccio, allora, guarda Ciccio. Ce n'è un team qui e c'è un team qua. Occhio, sei giusto, parco, occhio. Sì, 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 sì. Hanno bruciato. 111 a uno. Se vuoi medis. Ciù, vieni qua. Arrivo, Ciccio. C'ho sottotiro. Eccomi. E piccoli non mi servono. Ah, che cazzo. Ah, dagli a parco, dagli a parco. No, no, son full, son full. Ok, vabbè, andata a fanculo. Ok, comunque te li troppo 500 anche io di piccoli, se li vuoi. Son full, son full. Nell'ultima colonna, nord-est 30. Ok, ascoltatemi, qualcuno che si pagano lì, a 300, a 300, c'è un team a 300, sta girando lì. Ok. Mannaggia la proia, mannaggia. Ci sparo l'uno morto, per cazzo, non da me, però, non da me. Ma arrivo a sinistro. Passi, passi, passi. Eh, ve l'ho detto, sono quelli che stavano girando. Ok, sì, ma non possono entrarci, ciccio, ci sono... Sì, ma c'è un altro team. No, no, ma c'è anche un altro team. Ok. Ok. Cazzo che spara. Sono ancora là sopra, parca, è 30. Io ho 4 bunkate, li ricordatevelo, eh. Nice, io ne ho uno. Se si chiude qua, si gode, eh, raga. Ok. Parca, quanti ne hai? 4 bunker, 4 balle. Eh, siamo god. Che goduria senza cecchini, porca parca. Niente, mannaggia la puttana, che coglione, no? Andiamo subito, parca, no? Che dici? No, 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 calma, calma. Mì. Allora. Allora, allora. Guardate il mio pinga. In qualche modo dobbiamo arrivare qui. Guardate il mio pinga. Sì, hai visto? Lì. Io ho un impulso, eh. Arrivano, arrivano, arrivano. Traccato? Traccato. Ok, ce l'ha, ce l'ha. Calmi, 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 calmi. Io ho un impulso. Io pure. Avete impulso? Sì. Eh sì, me ne hai dato una. Quante ne hai? Io una. Io pure. Ok. Qualcuna champagne? No. Mi dispiace. Cazzo. Si muovono, si muovono, si muovono. Seguetemi, seguitemi. Tutti da me, tutti da me. Nei prontiamo, rontiamo. Chi siete? Al mio pinga, al mio pinga blu. Vai, Parca, ti seguiamo. Incazzo mi sparano, lasciate. Tutti i tasci che avete. Frega un cazzo. Full centrali, seguitemi. Già a sinistra, Parca, occhio. Vai a sinistra, Parca. Sì, sì, sì. Continuate a seguirmi, continuate. Siamo dietro di te, Parca. Sono quasi davanti a te, in realtà. Continuate, 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 continuate. Brutto quel bunker qua davanti. C'è gente. Tira, 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 tira. Bravo. Chiudo, chiudo. Chiudo, chiudo. Vedi te sopra, vedi te sopra, vedi te sopra. Sopra da me, tira bolla, tira bolla. Sono qua, Parca. Vedi te so, buona, buona. Io ho mungati lì, ancora. Collatemi, collatemi, collatemi. Jenny? Ho preferito a tirarle due. Ruotavo tutti, raga. No, no, si, 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 stia fermo. Parca, rompa le volle se sparo. No, stia fermo. Ok, ok, ho capito cosa ho che dici. Ti copro la schiena, Parca, se ti aprono. Sì. Ma che cazzo stanno facendo essere incoglialiti. A 228, Parca, c'è gente, eh? Calma, calma. Vi devo che fare? A posto. Dovremmo andare safe, ragazzi. State da me, state tutti da me. Ok. Siamo qua, Sienna, siamo qua, Sienna, calma. Speriamo tutti lì. 3, 2, 1. Buonissimo, vai, 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 vai. Bello, così. Buonissimo. Calma, calma. Non avertichiamo, attenzione. Gente, a 233. Avete shock, invitatemele. Una sola, tieni. Tieni. Ok, prendetemi le nitro e splittatevele. Tieni. Prendetemi le nitro. Ok. Quando mi collo fate le nitro, fatemi la nitro. Quante bucchere avete? La faccio io, Cilio, la faccio io. Non ti preoccupo. Vero. Due. Ok. La faccio io la nitro, tranquilli, eh? Nitro, nitro. Fatto. Ok, seguitemi. Da me, da me, da me, per favore, da me. Sto bugiato a te, tranquillo. Ciccio, per favore. No. Scelate, scelate, scelate. Calma, calma. Metto un car qua. Guardatemi, guardatemi. Da me, da me, da me. Da me. Stai entrando, stai entrando. Sono bugato. Sì, per favore. Sono bugato. Scegliamo, scelgiamo. Staici. Volate bene bunker, volate bene bunker. Zero bunker. Tieni. Tieni. Ti guardo io la schiena, C. Lasciamo riscaldare tutti quanti. Pullati, pullati. Tieni. Ok, mi collo la nitro, quanta? Quando vuoi, io ce l'ho la nitro. No, no, sparano. Nitro, nitro, nitro. Nitro. Fatto. Al mio ping, al mio ping, al mio ping, al mio ping, al mio ping blu. Ping blu. Questo è il tuo ping blu, ok? Ping blu dentro, tutti dentro. Ci sono, ci sono, ci sono, ci sono. Avete buone, datemi le buone, datemi le buone. No, no, un cazzo, parca. Ok. Datemi qualche cura, qualche cura, qualche cura. No, no, niente, 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 niente. Niente, 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 niente. Niente, 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 niente. Buonissimi. Siamo, forse, venite subitemi. Arriva uno, c'è un po' qua. Porto. Venite qua da me. Bene, io sono su tra cilio. Vincate da me. Morto una. Va bene, Xiu. Va benissimo. Abbiamo ucciso lo Eya. Non ho sparato. Bravo, parca. Non ho sparato. Peccato. No, non ho sparato. Abbiamo fatto una gran partita, ragazzi. Guarda che tanta roba, raga. Questa è bella, eh. Questa è stata bella, sì. Dai, ah. Parca, resistavi tre secondi in più, diciamo. Lo so, lo so. Bella, raga, eh. Mamma mia, che gran partita. Viga, raga. Bellissima. GG a noi. Questa è bellissima proprio. GG a noi. Parca, hai gestito, hai gestito da Dio. Ci metti un po' di ansia, ma hai gestito molto bene. No, io non provo questa ansia. Ok.